Parlerò brevemente della mia esperienza che ho fatto nelle Asturie, nella città di Avilés. Anch'io sono partito e grazie a Dan mi ha trovato un progetto a tempo record perché ero già laureato, però non trovavo lavoro e ero comunque intenzionato a fare un'esperienza all'estero perché ho sempre avuto una mente aperta agli altri paesi, però anche per vedere cosa sono capace di fare da solo. Quindi una parte del mio progetto, quella più importante, si è incentrata sul raggiungimento di un certo grado di autonomia perché prima di partire ho sempre avuto i miei genitori che hanno sempre fatto tutto per me quindi non avevo idea di come funzionasse una lavatrice, di come piegare i vestiti. Quindi se dovevo fare qualcosa prima dovevo sempre chiedere ai miei porti, mi accompagni e quindi il bello è che nelle Asturie e l'associazione di accoglienza mi ha messo a disposizione un motorino elettrico quindi ho imparato anche ad essere più autonomo, ho imparato anche a vivere assieme ad altra gente perché avevo una volontaria che era fetta da cecità e anche quando sono andato fuori durante la visita previa di tre giorni con Anna mi diceva, ma sei un po' in un certo senso imbrannato perché lasci le cose in mezzo e sai che c'è Giulia che non vede dopo magari può inciamparsi e può inciampare e farsi male e anche sotto questo punto di vista comunque ho imparato a convivere con gente con una disabilità diversa dalla mia infatti l'ho anche aiutata a fare la spesa al supermercato, a portarla al centro commerciale, a ricaricare il cellulare per quanto riguarda le attività del mio progetto ho organizzato workshops di conversazione della lingua inglese italiana e negli ultimi due mesi ho fatto un workshop base di lingua tedesca e uno di lingua francese perché la città di Aviles farà uno scambio estivo con le città di Saint-Nazaire e di Erfurt quindi sono contento perché ho messo a disposizione delle persone interessate le mie conoscenze linguistiche infatti ho anche svolto numerosi tandem con gente del posto offrendo lezioni di inglese in cambio di lezioni di spagnolo e questo mi ha aiutato molto perché sono riuscito ad avere la certificazione di spagnolo del Cervantes del livello B2 e sempre nell'ambito del progetto abbiamo parlato in diverse scuole superiori sia di Aviles che delle Asturie del servizio volontario europeo a giugno prima di partire ho partecipato a Malaga a un seminario sull'inclusione quindi ho condiviso la mia esperienza di vita con altre persone ed è stata un'esperienza positiva che ha detto anche della mia coordinatrice e del mio tutore che mi ha cambiato la vita quindi è un'esperienza che io consiglio vivamente a tutti grazie splendido